Se io clicco qui, dobbiamo andare a vedere il post, mi sembra che l'avevamo fatto, no? Andiamo a vedere, navigation service, post, non l'avevamo fatto? Non l'avevamo fatto? Non l'abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto. Andiamo a farlo velocemente, post new article, ok, get articles, non l'abbiamo fatto, la visualizzazione del post, ma sì che l'abbiamo fatta, prima funzionava, sì sì sì, l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, fermi, che andiamo a vedere dove la faceva. Quindi andiamo a vedere il post preview, eccolo qua, on set, on show, on show post, eccolo qui. Qui faceva l'article selected con article e set post, ok, e ovviamente questo non può andare bene, perché dobbiamo andare a prenderci il post relativo, solo che mi sa che non ci abbiamo la chiamata, andiamo a vedere, vabbè, eventualmente facciamo un filtro, localhost, mi sa se il nostro backendista ci aveva fatto, aveva il get con lo slug, ok, con lo slug ci fa dare l'articolo, andiamo a prenderci uno, vediamo se funziona effettivamente, il get, eccolo qua, sì sì, andiamo a definirlo, quindi in article service, qui, ci facciamo la nuova chiamata get article, questo da, questo da, questo da, questo article response envelope, ok, quindi andiamo a prenderci, ad esempio questo, ok, quindi non è filter by tag, ma è slug, vero, viene messo come parametro, quindi è, così, quindi è articles, sì, è articles, barra dollaro plug, questo non c'è più, qui è article envelope, ok, quindi qui abbiamo la get singola, dobbiamo andare a prendere la pagina corrispondente del post, che è questo, ok, qui c'era il navigation service, perché veniva settato l'articolo, direttamente il navigation service, eccolo qua, ovviamente questo non ci va bene, e lo facciamo direttamente con, no, ve lo devo far vedere prima col query params e poi lo facciamo con il nuovo metodo, quindi constructor, qui dobbiamo iniettare article service, quale inject article service, ok, nel, nel, nel root, se lo riesco a trovare, ok, ok, facciamo il singolo post, a di vero siamo, se ne ha un page, lo mettiamo come child, ah sì, mettiamolo come child, quindi, no, non è come child, è niente child, ok, quindi abbiamo, qui, path, dei punti, post, anzi, post, barra, detail, circolo, poi, load component, import, punto, barra, pages, barra, post, barra, post component, punto, then, c, punto, c, punto, post component, non c'è nessuna guardia, perché questo è libero, allora, nel post, qui, ci serve, anche, eh, l'activated root, poi il materiale, facciamo il resolve, anzi, facciamo direttamente con il resolve, va, quindi, definiamo, qui, article resolver, article, qui, file loading, get article, ok, siamo arrivati qua, ora, qui, non vogliamo che sia una parte del path, ma vorremmo metterlo in quelli stringhe, quindi con il punto di domanda, noi vogliamo che sia qualcosa di tipo post, punto di domanda, slug, uguale, pippo, ad esempio, no, null, in questo genere, in realtà, per il seo sarebbe meglio metterlo come parte proprio del path, no, però, era per farvi vedere anche come query string, quindi, la modalità è più o meno la stessa, quindi, facciamo route, punto, se vedete c'è query params, route query params, e qui, abbiamo detto slug, quindi questo carica, qui abbiamo questo, ok, qui article, che non gli piace, observable di article, article response, ah, questo è un article response, fatemi vedere, article response, ah, ok, article response, ok, quindi, questo ci darà un article response, probabilmente non è la cosa giusta, però, avevamo questa API, ok, torniamo qui, allora, nel post detail, qui ci mettiamo resolve, due punti, come lo chiamiamo, article, vabbè, article, article, due punti, article resolver, quindi lo passiamo nel resolve, e qui, nel nostro post, a questo punto, che facciamo, sì, ci serve, andiamo a prenderlo dall'altra parte, se no, se no, non ce l'ho importato, qui possiamo cancellarlo via, andiamo a prendere questo, activity drought, dopodiché, questo, vabbè, lo lasciamo, magari dopo commettiamo tutto, andiamo a questo, e, portiamo tutto a questo, come l'abbiamo definito, non resolve, no, come l'abbiamo definito, article, quindi, article, as article, niente, article response, response, qui dobbiamo importarlo, quindi, article, uguale a signal, article response, ovviamente, la prima volta sarà undefined, e quindi qui, metterci undefined, ok, this.article, set article, perché ho messo la printesi quadra, article, quindi via qui, via qui, formattiamo il nostro codice, ok, e quindi andiamo a prenderci il nostro articolo, ovviamente qui, dovrebbe darci qualche errore, esatto, quindi, abbiamo, come l'abbiamo chiamato, article, article, as article, e qui, ok, non abbiamo l'immagine, vedete, author, no, ce l'abbiamo l'image, ah, ok, che può essere opzionale, ok, neanche questo, e questo, ovviamente, qui nel global, dobbiamo andare a, a fare, il link, quindi nel global feed, andiamo qui, era nell'app preview, ok, nell'app preview, nel post preview, ok, qui c'era, un bottone, questo era del set, on show post, eccolo qua, quindi qui, router, link, ovviamente, dobbiamo ancora importare, facciamolo così, andiamo nel post preview, imports, router link, ormai, avete capito, più o meno, com'è, la modalità, qui, dobbiamo, usare, la nostra nuova, router, quindi qui salviamo, andiamo a vedere, eccolo qui, andiamo a post detail, post detail, quindi, post detail, punto di domanda, plug, uguale, e qui ci mettiamo, article, punto, magari si ci mettono un più, plug, che non esiste, article, ok, questo qui è ancora un signal, plug, ok, andiamo a vedere, clicco, andiamo qui, clicco, mi porta nel sign in, per caso, avevo messo, article resolver, post component, non c'è, il path, per chi mi rimanda nel, per chi mi rimanda lì, article resolver, andiamo a vedere, andiamo a vedere, se ha the bug, vedo qualcosa, no, andiamo a vedere nel network, quello che fa, ok, adesso clicco, non prende il path, post detail, parra, parra, ah, ok, giusto, vedete qui, praticamente, questo è un controllo di sicurezza di angular, la stringa la converte, con i caratteri escape, quindi, qui, dicevo prima, è meglio usare, con le parentesi quadre, quindi, con le parentesi quadre, il primo pezzo è questo, e, il primo pezzo è questo, virgola, il secondo pezzo, qui, però, vorrò di metterci, il query string, perché questo qui, il router link, aspetta un attimo, ecco lo slug, con lo slug, post barra detail, ok, post barra detail, barra, punto di domanda, slug, uguale 1, quindi, query params, ok, slug, slug, big punti, article, punto slug, questo lo possiamo togliere via, ok, andiamo a vedere, oh, eccolo qua, ok, e finalmente funziona, anche questo, c'è sempre il problema, del leader, quindi, andiamo a toglierlo, non nel post preview, ma nel post, eccolo qua, quindi, togliamo via, leader, e andiamo a togliere via, il footer, ottimo, ora, quello che, noi abbiamo usato, il resolver, ok, quindi, il resolver, va a fare, eh, il resolver di tutto quanto, ma essendoci un query string, un query params, scusatemi, quindi slug, praticamente, cosa dice, dice che io posso prendere, il parametro in maniera dinamica, adesso andiamo a vedere, come si fa di solito, ok, andiamo a creare, ad esempio, possiamo creare, un slug, uguale a signal, stringa, e facciamo così, ok, dopodiché, qui nel costruttore, facciamo, this.activatedRoute, punto, query params, anzi, facciamo, snapshot, punto, query params, ormai avete capito, qual è la differenza, tra lo snapshot, e senza snapshot, qui, ci andiamo a prendere, lo slug, e facciamo, this.slug, punto, set, di questo valore, e ce lo andiamo a stampare, a video, magari ce lo stampiamo, qui, ce lo stampiamo, magari qua, vediamo dove, magari, qui, come un h1, slug, due punti, slug, andiamo a vedere, ok, adesso ci abbiamo lo slug, questo è il modo classico, quello che dice questo articolo, che l'ha scritto, punto, che è molto, molto simpatico, ok, qui vedi, fa col params, via dicendo, ma si può fare anche col query strings, è, il seguente modo, con, l'input tradizionale, quindi, non con signal, ma con l'input, con il cliccio l'input, è il vecchio modo, una volta, per passarsi in input, i valori, io posso, far così, e non uso l'actività del route, ah no, dice che anche con signal, quindi aspetta un attimo, vediamo prima con signal, poi eventualmente facciamo col vecchio metodo, ok, quindi, lo slug, facciamo con signal, qui, un input, non con, input, lo importiamo, andiamo a fare il salvataggio, non c'è niente, perché, nell'app config, eccolo qui, dobbiamo dirgli, nel provider route, e dobbiamo dirgli, il, with, component, input binding, andiamo a importarlo, se mi permette di farlo, ovviamente, non me lo trova, ah no, l'ha trovato, ok, parta tonda, chiusa tonda, a questo punto, se io salvo, vedete, senza andare a fare, con l'actività del route, in automatico, viene bindato, anche con signal, eccolo qua, quindi, se io qui metto, pippo, no, perché è andato in errore, non ha trovato l'articolo, giustamente, però, se io vado qui, ne seleziono un altro, eccolo, ok, ragazzi, spero, vi sia piaciuto, abbiamo visto, un sacco di cose, spero, sia stato interessante, per voi, quanto è stato per me, ora, vi lascio veramente, buonanotte, vi riaggiorniamo, ciao a tutti,